Senti, non ci hai ancora spiegato come mai hai scelto il tuo nome di battaglia, non ce l'hai neanche detto? È una cosa buffa. Io vado lungo il bosco di Niela Belbo e sono quasi a San Benedetto. Ecco, c'è una donna, una cascina, uno spiazzo che mette sulla tavola salami, pane, formaggette. E io guardo, avevo una fame terribile. Allora questa donna entra e di nuovo nella cascina e io corro, prendo un salame intero, quattro pagnotte, così qua se non le potevo portare, è una formaggetta. Questa donna esce e mi dice, oh Cristo, ti le propi da Iena. Era diverso tempo che i miei compagni mi dicevano, ma ti vuoi dare un nome a te? E poi me lo darò, poi me lo darò. Sono ritornato con questi salami, così, oh Cristo, no, il nome è trasparito tutto. Da oggi mi chiamerò Iena, Iena, oh Cristo, no, e perché Iena? E glielo ho raccontato, tutti ridevano come matti. E questa donna, e sono passati un mese e mezzo e ritorno da questa donna. Mi guardo e mi dice, che suori, io sono quello che gli ho portato via, salame, pane, oh Cristo, eh, aveva tanta fame, mi dice in Piemontese. Ecco, signora, la fame è terribile, la passiamo tutti. Mi sono venuto a chiederle scusa, tanto mi ha dato il nome di battaglia a lei. Come? Sì, lei mi ha detto che sono una brutta Iena e io mi sono chiamato Iena. Ci siamo salutati, lei ha capito il perché io ho portato via il mangiare, perché lei preparava il mangiare per i contadini che lavoravano e che poi sarebbero venuti. Grazie. 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 Grazie.